allenamento degli allievi di mister gabriele oggi è giovedì qua al vecchio eccoci solo le capelli si ha visto ecco i nostri allenamento mister gabriele c'è anche il come siamo a quello che ha parlato la televisione il paolini il paolini ecco michele 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 con capabilità e freddezza nasuti perruccio perruccio ecco Matteo Michele Nasuti Donofrio Nasuti Matteo Nasuti Michele Nasuti forza buon allenamento ragazzi Gio Carlo se ne va